Partirà domani a Citerna la rassegna nazionale di teatro dialettale Il Torrione, giunta alla sua quindicesima edizione. Il tradizionale palco della rassegna sarà il teatro Bontempelli di Citerna. La manifestazione ha la peculiarità unica e importantissima di valorizzare il teatro dialettare e comico nella sua forma più prettamente artistica e culturale, conservando in tal modo la tradizionale lingua territoriale come portatrice dei valori della civiltà popolare. Saranno cinque gli spettacoli in programma che si svolgeranno a partire come dicevamo da domani al 15 maggio, proposti da compagnie teatrali provenienti da diverse regioni italiane Veneto, Campania, Lazio e Marche. Giulia Gragnoli è l'assessore alla cultura del comune di Citerna. Anche quest'anno siamo riusciti come amministrazione comunale insieme alla Wilte Umbria di Perugia a garantire la riproposizione della quindicesima edizione della rassegna nazionale Il Torrione. Quest'anno le compagnie sono cinque che provengono appunto da tutta Italia perché l'unicità di questa rassegna appunto la sua caratteristica nazionale. Insieme a queste compagnie ci sarà anche una sesta che viene da Roma e si esibirà sempre nell'insamble del Torrione come concorrente fuori concorso. La location è il Teatro Bontempelli di Citerna. Le serate si svilupperanno come calcio dal 20 marzo al 22 maggio. Esattamente i venerdì sera sono sempre i giorni settimanali scelti da appunto 14 anni. Dei spettacoli di qualità perché ecco la linea è sicuramente dialettale ma si cerca sempre di mantenere alta quella che è l'identità della lingua italiana che ci caratterizza appunto per le sue peculiarità nel mondo. Per la sua complessità sia pura che per la sua complessità nella sua varietà e varietà di dialetti appunto da Milano a Palermo. Il primo spettacolo come dicevamo in programma si svolgerà domani alle ore 21 il Berretto a Sonagli messo in scena dalla compagnia teatrale Luna Nuova di Latina.